Nel mezzo del camin di nostra vita Giovanni Corvetta della Pania, 1859 metri Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video Questa mattina bellissimo giro Stiamo raggiungendo il passo dell'Alpino Partiti dall'antro del Corchia E raggiungeremo la vetta del monte Pania Questa mattina bellissima Questa mattina bellissima Eccoci a Fuci di Valli Quella che vedete alle mie spalle È la cosiddetta Costa d'Italia Questa mattina bellissima Passo degli uomini della neve In questo punto infatti la neve resiste pressoché tutto l'anno Chi erano questi uomini della neve? Fondamentalmente erano persone che partivano quando ancora non faceva giorno E andavano a recuperare appunto questi blocchi di neve Che erano molto utili In quanto non esistevano ancora sistemi di refrigerazione Quindi specialmente nei mesi estivi E la neve era importante appunto Sia per la conservazione dei cibi Ma anche per poter essere consumata ad esempio sotto forma di granita Che erano cosa più erano E la domanda Che erano comunque D'accesso E il network di definizione ? Chi 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 Grazie a tutti. Stay close to me Stay close to me Don't let go Stay close to me Stay close to me Don't let go Stay close to me Stay close to me Don't let go Stay close to me Don't let go